Oggi vi racconto come ho realizzato questa immagine. Per quanto complicata possa sembrare, è in verità piuttosto semplice realizzare questo genere di immagini. Quello che ho utilizzato sono due punti luce, un beauty dish con una griglia, una gelatina, una bandiera e una brava assistente. Ho posizionato il beauty dish con la griglia a 45 gradi in altezza rispetto alla modella e alla destra della macchina fotografica. La luce di sfondo è stata creata con un flash senza modificatore e una gelatina arancione al fine di ottenere uno scatto in armonia a colore monocromatica. I giochi di luce sono stati realizzati grazie all'assistente che pazientemente ha tenuto e modellato la bandiera nella corretta posizione secondo le necessità. Questa è la reazione che il mio team e io abbiamo avuto durante lo shooting. Per cui mi auguro che dopo questo video possiate avere esclamazioni tanto entusiaste come la nostra.